Ben ritrovati telespettatori di Trentino TV con a tu per tu il faccia a faccia con i consiglieri provinciali e diamo il bentornato a Claudio Cia nei nostri studi buongiorno bentornato Claudio Cia che ricordiamo in consiglio provinciale per il gruppo misto ma leader del movimento Agire e siamo alle battute finali ma qualcosa ancora Cia da dire c'è perché effettivamente i problemi sul tavolo ci sono ancora cominciare dall'annosa questione legata alla sanità ai depotenziamenti degli ospedali periferici e allora diamo un'occhiata all'ospedale di Borgo al Sugane, lei è espressione di quel territorio in modo particolare anche lì che cosa sta accadendo Cia? Praticamente l'ospedale di Borgo è gradualmente depotenziato, noi sappiamo che è stata anche depotenziata la chirurgia è stato anche ridotto il personale di reparto in quanto evidentemente se non si opera si ha meno bisogno di personale l'obiettivo è quello di tener chiuse, addirittura di arrivare a chiudere il reparto sabato e la domenica per cui gli interventi importanti potranno essere fatti il martedì e il mercoledì mentre gli altri giorni verranno fatti interventi diciamo che non necessitano di un ricovero che non duri più di una notte questo evidentemente demotiva e umilia anche l'attività professionale sia dei medici che dei infermieri e degli osse e soprattutto rischia di creare le condizioni perché questo ospedale non venga più visto come punto di riferimento di una valle e di conseguenza la gente sia tentata di rivolgersi ad altre strutture e poi così dare alla politica la scusa di chiuderlo perché i cittadini non si rivolgono più all'ospedale. È ovvio che se noi a questi ospedali togliamo punti di servizio quindi servizi e quant'altro è ovvio che la gente va altrove ma è ovvio anche che sembra che in questa operazione la politica abbia come obiettivo quello proprio di giustificare un ulteriore depotenziamento una trasformazione di questa struttura forse in poliambulatorio se non addirittura nella chiusura e su questo io personalmente vigilerò. Quindi nonostante tutte le proteste legate ovviamente al San Lorenzo ma dobbiamo pensare anche agli altri ospedali per la periferia come Cavalese ed altri continua questa marcia inarrestabile sembra verso un accentramento della sanità. Sì purtroppo questa è l'operazione che è stata studiata a tavolino da chi ci governa oggi ma anche da chi gestisce un po' questo comparto della sanità e in questo penso anche ai dirigenti sono dei dirigenti che hanno in mente una soluzione diversa da quella di valorizzare gli ospedali periferici e alla fine chi paga sono i cittadini. Noi dobbiamo finire di vedere la sanità come il salvadanaio da cui attingere risorse per andare a metterle in altri capitoli. Altra questione che si vuole sollevare è legata ai concorsi pubblici perché in parte è legata anche alla sanità nel senso che si dice poi che manchi un personale anche per giustificare certe scelte concorsi che siamo oltre il limite della riservatezza, oltre il limite della privacy ci pare di capire. Sì dovrebbe essere così, infatti oggi noi andiamo sul sito dell'azienda sanitaria vediamo tutta una serie di concorsi che sono stati indetti ci sono gli elenchi dei nominativi che in realtà non ci sono i nomi ma ci sono dei numeri identificativi è ovvio che questo non permette una trasparenza nella gestione poi dei concorsi e ormai sappiamo che in Trentino purtroppo da diversi anni il concorso non mira più a evidenziare e a premiare la meritocassia ma mira a consentire di operare dietro a una specie di sipario dove evidentemente si fanno delle assunzioni che nulla hanno a che fare con la meritocassia ma che sono funzionali a desiderata di qualcuno. Quindi l'arruolamento di persone già decise è camuffato da concorso pubblico? Ormai il concorso pubblico è un paravento dietro il quale si fanno delle assunzioni che nulla hanno a che vedere con la meritocassia, la trasparenza e quindi anche il valorizzare il professionista. Sì, siamo, si diceva in apertura, in chiusura, gioco di parole di legislatura ormai mancano pochi mesi ma mai un periodo fu più tribulato di questo senza voler andare a mettere le mani nella questione nazionale che è ancora più un ginepraio ma anche in casa nostra la situazione è ancora ingarbugliata con un centro-sinistra ancora la ricerca di un'identità e di un candidato presidente e un centro-destra che sembrerebbe essere pronto per la grande battaglia ma ha trovato unità o ancora no? Allora è risaputo, ormai è stato anche pubblicato, che sei sono le forze politiche che si riconoscono in questa coalizione del centro-destra Fratelli Italia, Forza Italia, Lega, Progetto Trentino, Agire e Associazione Fassa Stiamo attendendo le decisioni che dovrebbero, speriamo, verificarsi e arrivare a breve di Casvalde e di Rodolfo Borga ma detto questo io credo che noi adesso dobbiamo avere il coraggio di andare avanti con chi c'è perché la gente ha bisogno di chiarezza, di trasparenza anche nel come si vanno a determinare le coalizioni non si può oggi dire ci sono, domani forse e l'altro ancora non ci sono perché la gente ha bisogno di chiarezza noi non pretendiamo di piacere a tutti ma è giusto che la gente sappia con chi siamo con chi intendiamo correre perché la gente è stufa di ambiguità e la politica trentina di ambiguità ne ha finché ne vuole Quindi cosa vuol dire questo? Quindi vuol dire che noi adesso nei prossimi giorni presenteremo la coalizione chi c'è c'è e gli altri se vorranno aggregarsi dopo si aggregeranno ma è evidente che quando tu arrivi dopo accetti e devi evidentemente rispettare il percorso fatto dagli altri non puoi arrivare ultimo e pretendere che tutte le carte vengano di nuovo rimescolate questa è una questione di rispetto nei confronti di chi già ci sta lavorando e ci crede da tempo e soprattutto si è esposto per tempo dicendo ai cittadini cosa è e con chi vuole andare di fronte a chi invece sta in qualche modo tirando una sega che non finisce più La questione nome candidato presidente? Ma guardi io parlo a titolo personale ma anche del movimento agire per noi il candidato presidente più naturale è Maurizio Fugatti è inutile girarci intorno e io credo che se verranno proposti nomi diversi che comunque hanno le capacità, le competenze e anche la lungimiranza che ha avuto comunque Fugatti è quello di aggregare perché in questo gli va riconosciuto beh si può discutere però bisogna che chi viene proposto in alternativa a Fugatti abbia almeno queste qualità capacità soprattutto di fare squadra e di tenere insieme una squadra perché quando poi si va a governare è fondamentale che chi è riuscito a fare la squadra la sappia soprattutto tenere insieme valorizzare e quindi anche presentare alla gente come credibile Ringraziamo Claudio Cia del gruppo misto leader del movimento agire in consiglio provinciale per essere stato con noi Grazie Buon lavoro Grazie a voi E a voi l'appuntamento come sempre al prossimo a Tu per Tu Grazie a voi 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 Grazie a voi